Un saluto a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale a Michele. Eh sì è un pacco ma non sono impazzito nel senso che è un cartone che io ho adoperato per mettere in sicurezza dei modellini che acquistai 23 o 25 anni fa e ho deciso di fare questo nuovo filmato perché sono in attesa almeno per chi mi segue lo sa delle uscite di Iron Man, delle uscite della Ford Gran Torino di Starsky Hatch e della leggendaria Citroen 2 cavalli la Charleston e ho avuto una pausa perché non non vorrei aver sbagliato e detto Citroen Gran Torino no vero ho detto Ford Gran Torino vabbè comunque ragazzi avessi sbagliato è ovvio che è Ford ma spero di no. Allora ho detto perché non fare un video che ovviamente poi metterò nella playlist dedicata di modellini che ho appunto acquistato diversi anni fa come vi ho detto prima e in questo caso almeno qui c'è scritto ERPA scala 1 a 43 io tanti anni fa acquistai dei modellini Ferrari molto belli modellini che adesso vi farò vedere scusate di inquadratura ma vado solo a tagliare il nastro che lo tiene chiuso così vediamo all'interno non è che mi ricordo proprio tutto quello che c'è andiamo a vedere eccoli qua adesso inquadro ragazzi un attimo solo allora scusate per le immagini ballerine ma devo tenere con la mano il treppiede del cellulare perché è troppo grande lo scatolone allora all'interno io comincio a togliere abbiamo tanti modellini non me ne ricordavo così tanti meglio ovviamente allora andiamo a levare tutto quello che c'è e poi cerchiamo di fare un inquadratura più decente ok ragazzi ma non me ne ricordavo mica così tanti ebbene sono passati un po' di anni sono proprio contento che ce ne siano così tanti ricordavo di averne ma non così tanti perché sono contento sono contento perché i modellini della erpa in scala 1 a 43 poi ci sono anche 1 a 87 nello specifico quelli che io amo della ferrari hanno fatto anche la lamborghini cuntac se non ricordo male gialla 30 anni fa anche più di 30 anni fa veniva 120 mila lire lo ricordo io continuo a togliere cosa c'è in fondo non me lo ricordo ragazzi tutti in diretta allora aspettate che guardate che inquadratura ragazzi qua si fa tutto in famiglia qui la professionalità è tutto ragazzi cosa c'è in fondo un asciucco qui abbiamo un altro modellino ragazzi ma quanti ne ho che bello cosa c'è qua sotto anche ah no questa qua è un modellino in latta ma da ledicola carino ma è stata una riproduzione mentre questa è ah questa è una ford e mancano dei pezzi purtroppo l'avevo comprata evidentemente allora questa qui peccato che non è completa spero l'ho comprata ovviamente sperando poi di riuscire a trovare dei pezzi in qualche mercatino dell'usato non me la ricordavo neanche c'è qualcos'altro qui no allora fermo un momento l'immagine ragazzi metto una pausa e ci vediamo dopo che ordino un po' gli oggetti insomma eccoci in un qua ragazzi allora ho contato 24 modelli in realtà me ne manca qualcuno sicuramente uno sicuramente uno e forse anche due uno nella confezione completamente disassemblato perché questi modellini venivano anche venduti in cofanetti molto belli che una volta aperti facevano vedere sia l'esploso fotografico del modello tutto smontato che corrispondeva in tutto e per tutto a quello che poi era il pezzo sotto nel blister con tutti i pezzi smontati uno per uno allora qui abbiamo le F40 ci sono un po' di modelli che poi farò altri video dedicati per ogni modello se siete interessati iscrivetemi qui abbiamo la F40 Challenge GT Supercar del 1993 numero 2 poi abbiamo questa che è la serie esclusiva F40 sempre queste che vi sto facendo vedere adesso sono tutte F40 questa è la F40 la classica questa è la Challenge GT sempre F40 Superturismo del 1992 adesso le stiamo guardando qui ragazzi come vi ho detto prima poi farò un video per ogni modellino voi iscrivetemi se avete piacere qualche modello specifico che lo faccio volentieri qui abbiamo un'altra F40 Gialla qui la GT Superturismo del 1992 qui abbiamo la F40 nera questo non so se ve l'ho già detto forse sì comunque allora e queste sono le F40 qui ho un altro modellino ma questa è da edicola ce l'ho della CMC questa in scala 118 meraviglioso questo è il Mercedes il V196 del 1954 ma è un'altra cosa qui abbiamo invece su questa linea tutte le 348 e qui su questa linea le testa rossa quindi abbiamo la serie esclusiva Coca Cola anzi no chiedo scusa non è questa la Coca Cola questo è il Buon Natale Merry Christmas del 1994 la 348 TS rossa qui abbiamo quest'altra sempre 348 blu mettiamole qui abbiamo questa gialla col tettuccio che si può levare anche questa l'abbiamo rossa uguale a quella che avete visto appena adesso poi abbiamo questa qua la Challenge Ferrari 348 turbo benzina Klaus Grafe numero 61 questa è come quella che avete appena visto è un doppione qui abbiamo sempre la 348 gialla questa è un'altra serie esclusiva come quella che avete visto prima uguale identica Merry Christmas del 1994 poi abbiamo un'altra come quella che avete visto prima e lo so ci sono dei doppioni ma io le amo così tanto queste macchine della Herpa perché secondo me non sono state tanto comprese da molti perché sono in plastica ma un'opera d'arte come questa che poi andremo a vedere negli altri filmati così non li faccio troppo lunghi questo è soltanto per farvi vedere un po' di modelli e poi come vi ripeto ve li farò vedere uno per uno ovviamente non i doppioni però appunto stavo dicendo questa qua è la 348 turbo benzina nera con i cerchioni come potete vedere di questo colore sì mi sono perso vi stavo dicendo che non è molto secondo me amata questa linea perché è in plastica ma vi garantisco che una macchina del genere con ammortizzatori funzionanti e ripeto ve li farò vedere cofano anteriore e posteriore baule posteriore cofano anteriore apribile porte apribili gomme in gomma proprio con il battistrada vi faccio vedere questo a testa rossa del 93 anche questo Merry Christmas bellissimo ma poi guardate le scritte vabbè lo guarderemo poi nel dettaglio ragazzi con i cerchi che sono in alluminio comunque metallo questo è un testa rossa cabrio questo è un testa rossa classico monodado tutti i monodado sono quelli della erpa le più belle questo è uguale a quello che avete appena visto aperto questo e questo qua sono uguali lo avete già visto e questo è un altro doppione sempre dell'esclusiva serie del Buon Natale del 93 e questo è un altro allora ragazzi io vi ho voluto soltanto mamma mia che disordine comunque un bel disordine questo è ho avuto solo il piacere di farvi vedere un po' di modelli e chiedo scusa ancora per le immagini ballerine ma a oggi ancora non saprei fare certamente di meglio se no lo avrei fatto e vi volevo appunto dire che questi modelli non sono stati tanto apprezzati perché sono in plastica quando io acquistai questo modello per la prima volta forse una trentina di anni fa il primo questi anni danno 25 anni non pensavo neanche che si aprissero le portiere il cofro e il baule perché combaciano così bene che non ci potevo credere quando mi sono accorto che invece si apriva tutto soprattutto la plastica del modellino ha una finitura che sembra una vernice lucida e verniciato non è perché è plastica ma una plastica pazzesca bellissima io sono molto contento anche dei veridoppioni e ne comprerei anche ancora se solo trovassi dei prezzi accessibili perché partono dai 15-19 euro fino ai ho visto 60 euro poi ce n'è anche più costosi però vi dico ragazzi ci sono marche che ho anch'io per carità non voglio fare nomi che costosissime sono costosissime in metallo ma in scala 1.43 non si apre nulla qui ragazzi qui stiamo parlando di un modellismo che se non le avete mai viste se non avete mai avuto a che fare con questi modelli e vi potete magari provate a avvicinarvi e vi renderete subito conto che quello che vi dice Michele corrisponde a realtà ripeto per il fatto che siano state fatte quasi tutte in plastica perché molti non lo sanno ma la parte sotto la base del modello è in metallo le molle ovviamente sono in metallo poi c'è il motore il basamento del motore è fuso insieme in un corpo solo con la base del metallo quindi un po' di peso ce l'hanno i cerchioni così come lo stelo che tiene l'asse che tiene le ruote sono in metallo però se guardate il dettaglio lo vedremo e lo vedremo molti di voi sicuramente le conoscono questa marca la conosco se guardate il dettaglio ma ragazzi ma qui siamo veramente cioè per chi ama il modellismo in scala 1 a 43 questi sono modelli soprattutto della Ferrari se vi piace la Ferrari a chi non piace la Ferrari ragazzi va bene quindi vi dicevo soltanto se vi avvicinate a guardare per la prima volta questo modello questo tipo di modello di modellismo vi innamorate vi innamorate per la fattura per l'alta fattura perché io difetti qui non ne ho non vedo neanche il difetto che non siano in metallo perché non essendo tutte in metallo hanno un accoppiamento delle chiusure disarmante cioè bellissimo qualcosa di inaspettato voi guardate la chiusura dei cofani e del baurio posteriore e dite ma è troppo perfetto non si apre no ragazzi si apre se fosse stato fatto in metallo la battuta tra la carrozzeria e la parte mobile e si sarebbe sverniciata la vernice non è che non le hanno fatti in metallo perché l'hanno voluto fare così no hanno ragionato e questo era l'unico modo per dare per dare io sono qui che parlo e tengo appoggiato alla pancia il treppiede e mi rendo conto che l'immagine è sempre quella perché sono concentrato ragazzi è quello che vi sto dicendo comunque dicevo che era proprio questa di dare un modellismo al di sopra di tanti altri modellini perché qua veramente siamo per quanto mi riguarda all'alto modellismo veramente ragazzi considerate che in scala 1 a 43 allora io vi ringrazio mamma mia ragazzi vorrei mettere un po' d'ordine sarebbe sicuramente bello ma farei il filmato più lungo più pause quindi io chiuderei qua il filmato dicendovi che poi fatemi sapere qualcosa nei commenti se avete piacere dicendovi che metterò questo chiaramente nella playlist Ferrari nel mio canale se avete piacere iscrivetevi ho anche tanti modelli Ferrari della Hot Wheels della Burago o qualcosa della Poker Riva Rossi scala 1 a 8 CMC ne ho diversi CMC non tutti Ferrari ma qualcosa c'è già sul canale CMC X8 dovrebbe avere un cinquantino di modelli ma piano piano ragazzi metterò tutto non è facile mettere tutto subito e quindi vi volevo chiedere appunto se avete piacere di iscrivervi di attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video e se volete se volete anche condividetelo su gruppi dedicati perché così facendo oltre alle iscrizioni che per me sono molto importanti nonché le visualizzazioni mi aiuterete a crescere in questo mio nuovo progetto ok ragazzi adesso vi saluto Michele vi saluta e vi dà appuntamento ai prossimi video vediamo cosa verrà prima se mi arriverà qualche pacco prima aspetto anche il grande Mazinga Z che sarà alto 75 cm ma ancora non mi è arrivato nulla quindi cercherò di fare qualche video per sopperire a questa mancanza ancora di consegne che sono in ritardo con le consegne un po' a tutti ho visto quindi ragazzi grazie ancora di avermi seguito un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari e non dimenticatevi se il video vi è piaciuto più che altro per le informazioni perché il video ragazzi non piace neanche a me c'è un video del genere non piace neanche a me però ecco prendete se c'è qualcosa di buono prendete quello che c'è di buono ok ragazzi un saluto da Michele ancora e un saluto e un abbraccio a tutti quelli che mi conoscono ciao Rolenzo che anche lui ha un canale su YouTube andate a vederlo trovate i commenti suoi nei miei diversi video è veramente un bravissimo ragazzo e ancora grazie grazie di avermi seguito grazie del vostro tempo ciao ragazzi alla prossima da Michele ciao